Buongiorno da Wild Bormida, ciao ragazzi, oggi siamo al campo di volo Alta Langa e siamo ospiti qui dalla scuola di Alessandro, voli di mare e abbiamo provato l'emozione di volare in un bi-posto, giusto Alessandro? In un bi-posto, corretto? Esatto, in un bi-posto sopra alla nostra vallata, Valle Bormida e la Valle di Montezemolo Eh, questa è dura ma lo facciamo dire ad Alessandro Chi è che ha avuto il tuo povero secondo te? Padre, paura nessuno, però sicuramente le donne hanno un punto in più, una marcia in più non c'è da dire nulla riguardo Effettivamente lo devo dire, io sicuramente ho avuto un po' più di caga di Chiara perché Chiara in realtà è furba, è già abituata, è già stata abituata a volare su questi bi-posto ultraleggeri mentre per me era la prima volta, quindi insomma è stata veramente... Sono qui con Alessandro, ora ci spiega un attimo che cosa fa la scuola perché veramente ragazzi non dovete perdere questa esperienza Ciao ragazzi, sono contento di avervi portato in volo, spero vi siate divertiti Il nostro scopo è quello di diffondere la cultura aeronautica e siamo qua al campo di volo a Talanga, a Camerana e vi aspettiamo perché il nostro proposito è appunto quello di aiutarvi a capire se il volo può diventare la vostra passione Quindi mi raccomando ragazzi perché veramente è una gran figata questa esperienza qua Io ti ripeto, sono ancora qua, vedi 32 denti, sono felicissimo perché veramente è stata il top Super top, come dico sempre Ciao a tutti